Siamo abituati ai bollettini quotidiani sulla pandemia sanitaria che viviamo. Ieri si è aggiunto il primo bollettino sulla pandemia economica, sulla crisi che verrà per moltissimi paesi. Sono previsioni, stime con inevitabili margini di incertezza. Vengono però dal Fondo Monetario Internazionale che nei decenni si è costruito una solida reputazione di autorevolezza. Nel bel mezzo del Great Lockdown, tre quarti del pianeta chiuso in casa, senza consumi, senza produzione, nessuno poteva certo attendersi good news. Il bollettino del Fondo Monetario di ieri ci mostra però un quadro così preoccupante da fare apparire minuscola e irrilevante, sono proprio le parole usate ieri alla presentazione del rapporto, la crisi del 2008, anche nell'ipotesi ottimistica adottata dallo studio, ovvero che tutti i paesi possano uscire dal lockdown entro l'estate, entro poco tempo. Quali sono i dati? Partiamo dalla crescita globale, meno 3%, il peggior dato degli ultimi 60 anni. Il PIL pro capite scenderebbe addirittura del 4% e 9 paesi su 10 entrerebbero in recessione. Per capire, perché la crisi del 2008 appare minuscola, basti ricordare che allora il PIL pro capite scese dell'1% e solo 6 paesi su 10 15 sperimentarono la recessione. Proviamo ora a disaggregare i dati per singoli paesi o raggruppamenti. La prima cattiva notizia per noi è che le economie avanzate soffriranno di più. Meno 6% contro meno 1% dei paesi emergenti. Un differenziale di ben 5 punti come nella crisi precedente, che si era però andato riducendo progressivamente nel decennio post-crisi. Fra le economie avanzate, una seconda cattiva notizia per noi. L'Italia sarà il paese più colpito nel 2020 con un meno 10%. Francia e Germania, Gran Bretagna meno 7,8%. Un po' meglio Giappone e USA con meno 5%. Molto meglio in diecina che secondo il fondo rimarranno in territorio di crescita positiva rispettivamente più 2% più 1%. Nell'insieme una recessione profonda, dice Gita Gopinath, capo economista del fondo, con fallimenti e disoccupazioni che lasceranno cicatrici profonde. Un messaggio forte, reso ancora più eccezionale dalle raccomandazioni che il fondo monetario dà ai governi per contenere i danni. Spendere, spendere, spendere in stimoli fiscali. Spendere tutti assieme coordinandosi fra stati. Eccezionale, perché gli stati hanno già previsto di spendere la cifra record di 8 miliardi di dollari e il fondo sembra suggerire non bastino. Estremamente eccezionale perché chi invita ora a spendere ad ogni costo è la stessa istituzione, il fondo monetario che ha fatto da sempre dell'austerità il suo faro. Un'austerità che il fondo ha imposto per decenni a paesi in difficoltà in ogni angolo del mondo. Una rivoluzione ideologica quindi, che piace ad alcuni ma dà a molti il senso della gravità della situazione. Chiudiamo con una notizia positiva. Se gli stati spendessero e se il lockdown non venisse interrotto troppo presto, con rischi di ricadute nella pandemia, il quadro 2021 potrebbe essere più roseo, con rimbalzi significativi soprattutto in Cina, in India, USA, Germania, anche in Italia più 4,8%. Ma dopo aver perso il 10% quest'anno, l'Italia sarebbe ancora sotto il PIL 2019, o meglio, il paese più sotto di tutti. La fase 2 arriva, potremo finalmente riabbracciarci, ma dovremo anche tenerci stretti perché ci sarà vento forte, tenerci stretti fastati per contenere i danni, tenerci stretti dentro l'Italia per affrontare con energia, coesione e determinazione un momento difficile. Continuiamo a sostenere i nostri ospedali, continuate a seguirci.